Numero 5. Questa lavatrice Indesit è una soluzione efficiente e versatile per le esigenze di lavaggio nella casa moderna. Con una capacità di 6 kg e una velocità massima di centrifuga di 1000 rotazioni per minuto, questo elettrodomestico offre una buona pulizia dei capi e un'asciugatura rapida. Tuttavia, la sua classe energetica F e i consumi elettrici elevati sono un punto debole che potrebbe scoraggiare chi cerca una lavatrice a basso impatto ambientale. Fortunatamente, l'opzione risparmio energia e i molti programmi rapidi aiutano a ridurre i consumi, anche se la durata dei cicli di lavaggio è un po' lunga. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 4. La lavatrice Indesit EWC offre una vasta gamma di programmi per soddisfare le diverse esigenze di lavaggio. Con una capacità di 7 kg e una velocità massima di 1200 rotazioni per minuto, è in grado di gestire grandi quantità di bucato in modo efficiente. Inoltre, il basso consumo idrico garantisce un risparmio sulle bollette. Tuttavia, non essendo dotata di funzioni smart, può risultare meno conveniente per chi cerca un elettrodomestico altamente tecnologico. L'autobilanciamento del carico è un punto a favore, ma la centrifuga risulta un po' rumorosa. Le dimensioni compatte e il peso di 62,6 kg la rendono ideale per gli spazi ridotti. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 3. Questa lavatrice Indesit è un prodotto economico ma efficiente. Con i suoi 11 programmi, risulta perfetta per chi cerca una lavatrice con molte opzioni di lavaggio in tempi rapidi. Il basso consumo idrico è sicuramente un punto a favore, mentre il consumo energetico elevato e la capacità ridotta potrebbero essere considerati dei punti deboli. Tuttavia, la sua scheda tecnica mostra un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, con un consumo di 60 kWh ogni 100 cicli di lavaggio e una durata di 3 ore e 5 minuti per ogni ciclo. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 2. La lavatrice Indesit MTVAA è una scelta affidabile per chi cerca un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. Con una capacità di carico di 9 kg e una velocità massima di centrifuga di 1200 rotazioni per minuto, è adatta alle esigenze di una famiglia numerosa. La sua classe energetica B la rende un po' più esigente in termini di consumi, ma i suoi 14 programmi, tra cui opzione smacchiatutto, offrono una buona varietà di scelte per un lavaggio efficace e delicato. Purtroppo, mancano programmi specifici per capi tecnici e per l'igiene, ma è possibile utilizzare il programma a freddo per altri tessuti. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. Questa lavatrice Indesit MTVAA è una delle migliori scelte per chi cerca un elettrodomestico con un buon numero di programmi rapidi e delicati. Grazie al basso consumo idrico, permette di risparmiare sull'utilizzo dell'acqua. Alcuni difetti possono essere la centrifuga lenta e la mancanza di opzioni per lavare capi tecnici o igienizzare la biancheria. La scheda tecnica è ben dettagliata, con informazioni su capacità, efficienza energetica e programmi disponibili. Le dimensioni e il peso la rendono facile da collocare in ogni ambiente domestico. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.